Ci vogliono almeno 30-40 minuti per percorrere pochi chilometri di strada, a volte nelle ore di punta anche un'ora. Tanti, troppi, è l'odissea di quanti transitano quotidianamente per via Benedetto Croce, la strada che collega Salerno con Vietri sul mare, il primo comune della costa d'Amalfi. Ci sono pochi metri di restringimento della carreggiata nel tratto iniziale della strada, quello che ricade nel comune di Salerno, perché si stanno completando i lavori di consolidamento del costone roccioso. E c'è un semaforo che regolamenta il traffico. I disagi sono innegabili per chi deve lasciare il capoluogo, ad esempio percorrendo le strade del centro resta già in prossimità del Teatro Verdi imbottigliato nel traffico. Identico lo scenario per chi si muove dall'area portuale o dalla zona dei vecchi caselli, anche perché durante il giorno ci sono i mezzi pesanti a rallentare la circolazione. Le immagini che vi proponiamo, girate da Francesco De Angelis, sono state realizzate in un normale giorno feriale di inizio settimana. Anche per chi si muove da Vietri sul mare o arriva dai comuni costieri, il tempo di percorrenza è identico. Il traffico di questo periodo è destinato ora ad aumentare con l'avanzare della primavera, ma già in questi giorni di festività pasquali, quando il flusso veicolare diretto verso Vietro o la costa d'Amalfi è destinato ad incrementarsi, così per chi decide di trascorrere qualche ora a Salerno. I disagi sono evidenti per i lavoratori, tanti pendolari, per i turisti, ma anche per chi ha attività commerciali. Alcuni ristoratori di Vietri sul mare, ad esempio, hanno già denunciato alla nostra redazione un calo del volume d'affari perché il traffico scoraggia molti potenziali clienti. Ecco allora che si chiede di fare presto, velocizzare i lavori per consentire a tutti di poter percorrere con maggiore facilità una strada che rappresenta un nodo cruciale per la circolazione, dal e per il capologo. Grazie a tutti.